La presentazione multimediale. Che cos'è una presentazione multimediale? Innanzitutto è una presentazione all'interno della quale si affronta un argomento nei suoi punti principali, ma soprattutto la presentazione multimediale è uno strumento pensato per accompagnare un'esposizione orale e quindi per permettere a chi ascolta questa esposizione di visualizzare all'interno delle diverse slide le parole chiave o i punti focali dell'esposizione stessa. La presentazione, abbiamo detto, è multimediale, significa quindi che contiene diversi media, testo, immagini, audio, video, link esterni, eccetera, eccetera. Per creare una presentazione multimediale efficace è necessario avvalersi di un piano di lavoro, considerando innanzitutto alcuni accorgimenti iniziali, procedendo poi ad un'attenta e accurata progettazione e infine impegnandosi nella sua realizzazione. Gli accorgimenti iniziali di cui ci si deve preoccupare riguardano gli obiettivi e le tempistiche. Per quanto riguarda gli obiettivi è importante chiedersi a chi verrà mostrata la presentazione? Per quale scopo? Quale argomento si affronterà al suo interno? Riguardo alle tempistiche invece è importante chiedersi quanto tempo ho a disposizione per completare il mio lavoro? Quanto tempo avrò per esporlo? E di conseguenza, in base alle risposte alle prime due domande, quante slide dovrò creare? Parlando di progettazione è necessario soffermarsi innanzitutto a leggere con attenzione la consegna. All'interno di essa infatti spesso abbiamo l'indicazione di tutti gli elementi che dobbiamo inserire o non inserire all'interno delle nostre slide. Dopo aver letto con attenzione la consegna raccogliamo le idee, magari facendo un brainstorming e poi organizziamole, magari attraverso una mappa. Raccogliamo quindi a questo punto i materiali che ci servono per realizzare le nostre slide. Consultiamo numerose fonti, non solo i nostri libri di testo, ma anche fonti cartacee di diverso tipo e fonti digitali in internet. Infine dedichiamoci a realizzare la presentazione. Creiamo e ricreiamo le slide. Dopo averne realizzato infatti una prima versione, controlliamone a una a una, effettuando per ciascuna un'attenta revisione per correggere e migliorarle il più possibile. Ti confido adesso alcuni suggerimenti di grande utilità. Per quanto riguarda il testo che inserisci all'interno delle tue slide, ricorda, le tue slide servono a chi ascolta la tua esposizione orale a visualizzare i punti focali della tua esposizione. Devono essere quindi ben visibili le parole che scrivi. Usa punti elenco, usa frecce, utilizza riquadri per metterle in evidenza, scegli caratteri formali e prediligi font grandi. Proprio per favorire la visualizzazione utilizza sempre colori ben leggibili. Si stai preparando la tua presentazione multimediale. Per affrontare l'esame che pone fine al primo ciclo di istruzione, ricorda di inserire al suo interno numerosi collegamenti interdisciplinari per affrontare le diverse sfaccettature dell'argomento che affronti all'interno della tua presentazione dal punto di vista di diverse discipline. Il tuo obiettivo, ricorda, è sempre presentare un argomento, quindi anche i tuoi collegamenti devono essere strettamente funzionali alla sua presentazione. Per rendere più chiaro il tuo punto di vista arricchisci le tue slide con mappe e grafici. Controlla però che siano leggibili e chiaramente di supporto alla spiegazione dell'argomento che stai affrontando. Per la stessa ragione scegli immagini che siano ben definite e significative. Inseriscine poche per ogni slide, grandi di dimensioni, cura nel formato e posiziona le all'interno della slide in modo che non impediscano la lettura delle parole chiave ma che ne valorizzino il significato. Creando i tuoi collegamenti inoltre, selezione immagini adatte per ogni disciplina. Le immagini che compaiono all'interno delle slide infatti non devono essere solo esornative, cioè non hanno solo funzione di bellezza. Devono rafforzare il significato delle tue parole chiave. Proprio per favorire la visualizzazione scegli sfondi chiari e uniformi. Non usare le immagini come sfondo perché impedirebbero la lettura delle tue parole chiave o la renderebbero molto difficoltosa. Inoltre, per non distrarre eccessivamente l'occhio di chi osserva la tua presentazione, seleziona transizioni formali e scegli per tutte le slide la stessa transizione. A volte può succedere. Prepari la presentazione multimediale su un computer, ne curi tutta la grafica, la carichi poi su un altro computer e le tue impostazioni vengono lette in modo completamente diverso. Può accadere. Programmi diversi possono leggere infatti in modo differente le tue impostazioni. A maggior ragione preferisci e prediligi una grafica sempre chiara, lineare e soprattutto semplice. Per impreziosire la tua presentazione, puoi incorporare al suo interno anche file audio, file video e link a siti esterni che permettono a chi osserva la tua presentazione di cogliere il tuo lavoro di ricerca e apprezzarlo. Ti segnalo infine gli errori che di solito vengono più frequentemente compiuti. Slide troppo piene di testo o troppo pieni di immagini che rendono difficile la lettura delle parole o l'osservazione delle immagini. Un testo scritto in formato troppo piccolo, immagini non chiare, troppi effetti speciali come dicevamo prima distraggono l'occhio di che osserva e infine troppi colori rendono la presentazione più simile ad un costume di carnevale che ha un lavoro scolastico e quindi formale. Parlando degli errori più frequentemente compiuti ripensa a tutti i consigli che i tuoi docenti ti hanno fornito nel corso degli anni scolastici. Realizzando la tua presentazione multimediale cerca di tenerli a mente tutti. Bene ho esaurito i miei consigli per te ora ti auguro buon lavoro e in bocca al lupo!